Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi. E il motivo di questa gioia e questa pace ci viene dal fatto che il cuore di Gesù, figlio di Dio, mandato dal Padre a dimorare su questa terra, a portare il suo Santo Spirito, a ricondurre l'uomo al Dio, il cuore di Gesù è costantemente rivolto verso ciascuno di noi. Egli infatti non è venuto per i giusti ma per i peccatori, è venuto a salvare ogni creatura su questa terra ed è venuto a salvare non col bastone, con lo scettro del comando, ma col cuore aperto alla misericordia, al perdono, alla benevolenza, è venuto a portare il cuore di Dio sulla terra. Infatti nel Vangelo che ascoltiamo oggi sentiamo questo racconto di Gesù che incontra San Matteo, che stava al banco delle imposte, riscuoteva le tasse. E questi funzionari statali venivano considerati dalla gente, dal momento che dovevano raccogliere le tasse per i romani occupanti, pagani, che opprimevano il popolo, questi tali venivano ritenuti come peggiori tra i peccatori. Infatti venivano chiamati pubblicani, peccatori pubblici, gente rinnegata. E Gesù chiama Matteo che lascia il banco delle imposte e segue Gesù e lo invita a casa. E a pranzo con lui poi seguono diversi pubblicani e peccatori. E la cosa suscita le ire degli scrivi, dei farisei, cioè delle persone corrette, praticanti, rappresentanti del culto ufficiale, che rimproverano i discepoli di Gesù, non parlano con lui direttamente, ma con i discepoli, perché erano più fragili, più deboli, più vulnerabili agli attacchi. Come mai che il vostro Maestro mangia con loro? E Gesù, dito questo, disse loro, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Tu ti ritieni peccatore? Sappi che il Signore è venuto per te. Ora non c'è bisogno che noi ci mettiamo a commettere peccati per farsi cercare da Gesù, perché il peccato è dentro di noi, l'abbiamo ereditato. Con il nostro concepimento, con la nostra nascita, in quanto la nostra natura umana è indebolita a causa del peccato, e quindi la natura indebolita viene trasmessa in modo indebolito, ma anche in un modo deviato. Infatti, vedete, che quando si parla male di qualcuno, si prova sempre gusto. Una volta, trovandomi in una parrocchia, parlo dell'Ontara 78, e fu invitato da un catechista a rivolgere qualche parola ai ragazzi della Cresima, e parlai proprio di questo. E allora il catechista si rivolse a me e mi disse, sai, ho fatto fare un compito a questi ragazzi. Ho detto loro, provate a parlare male di qualcuno tra di voi, vedete che effetto fa sugli altri. E allora questi ragazzi si organizzarono a gruppetti di tre e quattro, sparsi di qua e di là, e fece questa esperienza, che mentre essi parlavano male, altri ragazzi si avvicinavano e ci provavano gusto. Quando poi loro alla fine dichiararono che invece tutto quello che avevano detto era falso, era tutto una montatura, questi nuovi che erano venuti si irritarono, perché non volevano ammettere che quello era falso, perché loro provavano gusto nel parlare male, non nel parlare bene. Infatti, quando si parla bene, si chiude subito il discorso. E quando si parla male, una volta un parroco confinante che oggi sta in paradiso raccontava che era andato a tenere due ore di lezione a scuola, perché insegnava religione, e andando verso la scuola trovò due donne per la strada con un cesto che discutevano animatamente. Dopo due ore lui ripassò e trovò ancora queste due signore che discutevano animatamente e agitando questo cesto. E allora si avvicinò e chiese a queste signore ditemi un po', ma di chi state parlando male? E questi allora troncarono il discorso e scapparono via. Ma per resistere due ore, certamente non è che avessero parlato di cose nobili, gioiose, positive. Perché questo? Non perché siamo cattivi, ma abbiamo ereditato la debolezza, cioè l'inclinazione al male. Per cui non c'è bisogno che io faccia peccati per essere peccatori, ma basta che guardi dentro di me, guardiamo come la tristezza ci assale e i dubbi, la scontentezza, la gelosia, l'invidia e tutte queste cose che sono la radice dei comportamenti e delle scelte che noi facciamo. Allora dice Gesù, io sono venuto a cercare i peccatori e infatti prima che Gesù si faccia incontrare da noi, ci fa scoprire il nostro essere peccatori, ci fa scoprire che siamo fragili, ci fa scoprire che abbiamo bisogno di essere guariti dentro, di essere rigenerati nello spirito, di cacciare via ogni spirito di malizia, di superbia, di corruzione e via dicendo, per essere immersi nello spirito di Dio che è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, lunga le manità, dominio di sé. Ecco dice Gesù, io sono venuto per questo, non a chiamare i giusti, ma i peccatori a conversione. E nella prima lettura di oggi, fratelli, dalla lettera agli ebrei, sentiamo le parole dell'autore che sono parole meravigliose da scolpire nella nostra anima. Innanzitutto l'autore parla della parola di Dio, dicendo che la parola di Dio, innanzitutto cos'è la parola di Dio? La parola di Dio è Dio che si rivolge a noi, che comunica con noi, e comunica a se stesso. Dio non ci comunica le cose, ci comunica a se stesso. Un genitore che abbraccia il bambino piccolo le apre il cuore, comunica, anche se il bambino non capisce eventuali discorsi, ma il genitore dialoga, comunica col bambino, con l'abbraccio, con il sorriso, con la tenerezza, con il divertimento, comunica. La parola di Dio è che si rivolge a noi, comunica con noi in diversi modi e penetra nella nostra vita. Dice infatti la parola di Dio è viva, efficace, è più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Ci sono delle cimitarre taglione da una parte e soltanto le daghe dei romani tagliavano da tutte e due le parti, cioè potevano ferire in tutte le maniere, per questo che potevano anche essere superiore agli avversari. La parola di Dio è viva, non è un discorso morto, un'argomentazione, è Dio comunica a sé stesso. Quindi quando noi ascoltiamo la parola di Dio, il Signore ci comunica la sua vita, non ci comunica qualche cosa a sé stesso, lui è la vita e quindi entra nel cuore dell'uomo in maniera molto efficace e penetra fino alle profondità dell'anima, fino a separare, dice qui la parola, fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito. Vedete, se voi avete una maglia colorata non potete separare quel colore dalla maglia perché la maglia è impregnata di quel colore. Bene, la parola di Dio penetra la nostra anima e separa la cattiveria, la malizia, la corruzione dalla nostra anima rendendola libera e rigenerandola con lo spirito nuovo. Ecco la parola di Dio, separa, sradica la malizia, il peccato dal fondo della nostra anima e la rende libera di amare, libera di essere rigenerata. Quindi, non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere conto. E poi, conclude l'autore, noi abbiamo un sommo sacerdote che sa capire le nostre infermità. Vedi, fratello, vedi, sorella, se tu hai commesso gli errori, ma il Signore è vicino a te, pieno di compassione. Se io dico ma l'ho fatto per... No, non c'è bisogno di scusarci. Noi abbiamo un sommo sacerdote che ci sa capire. Infatti, si è fatto uomo perché sono uno come te. E anche lui è stato assalito da tentazioni, ha vinto ogni tentazione. Il maligno non l'ha mai scalfito, ma lui può capirci perché, dice qui l'autore, perché, come uomo, e anche lui ha provato la sofferenza, il tradimento, la vergogna, l'accusa. perciò, accostiamoci, conclude l'autore, con piena fiducia al trono della grazia, per ricevere misericordia e trovare grazia, così deve essere aiutati al momento opportuno. allo fratello che la sarebbe in questo momento Gesù ti sta amando. Il suo sguardo è pieno della sua parola e il suo spirito ti penetra l'anima e ti ricolma e sradica da te ogni forma di peccato e ti penetra col suo spirito santo ed amore e ti rigenera a vita nuova. Signore Gesù grazie per quanto tu stai facendo in questo momento nel cuore di tanti. Ti stai presentando a noi come ti presentasti a Matteo pieno di misericordia non di giudizio di condanna per portare la vita nuova penetra nel cuore di ciascuno oggi Signore con la tua parola col tuo spirito tu non vieni con i discorsi tu vieni col cuore vieni con la potenza dell'amore a rigenerare a rinnovare noi ti rendiamo grazie Signore perché il tuo progetto è quello di portare tutta l'umanità ad essere rigenerata e rinnovata nello spirito santo perché il peccato non abbia più a regnare su questa terra a te Gesù la lode e la gloria per tutti i secoli e i secoli Amen Vesni Santissima in quest'opera di Dio in te ha trionfato e ha riportato vittoria Gesù ti ha associato a sé prima ancora che tu nascessi ti ha associato al mistero della nostra redenzione e in te ha compiuto la perfezione della redenzione tu per noi sei la luce sei la stella che ci guida il punto di riferimento che ci dà fiducia perché ogni parola di Dio in te ha portato frutto abbondante per tua intercessione oggi conduci anche noi a Gesù e nutrici della sua parola a lui gloria onore potenza e benedizione per tutti i secoli dei secoli Amen e come dice l'autore fratelli accostiamoci con fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia ed essere aiutati al momento opportuno tuffatevi in questa grazia immergetevi in questa grazia la Madonna in questo vi assiste e vi accompagna e siate tutti benedetti